Palazzo Guerrieri continua a sfornare iniziative, adesso ce n'è un'altra sull'innovazione sociale. In che cosa consiste? Tra l'altro c'è un plafond di denaro notevole, altri 2 milioni e passa. Dovranno essere sfruttati come? Oggi eravamo qui a Palazzo Guerrieri per questo primo incontro di presentazione del progetto Case di Quartiere che attraverso una misura regionale ha portato un finanziamento per la realizzazione di luoghi nei quartieri della città che possono diventare dei punti di riferimento per rispondere ai bisogni dei cittadini e per convogliare anche tutte le energie, le iniziative, i progetti di associazioni, i gruppi di cittadini che in questi anni già si sono fatte avanti e che potranno aggiungersi a questi percorsi. Abbiamo deciso di partire da alcuni luoghi in cui già attraverso misure adottate dall'amministrazione si sono avviati dei progetti in qualche modo di recupero di luoghi o abbandonati o sottutilizzati quindi tutti i luoghi legati alla rete di Riusa Brindisi, dei progetti Parchi Bene Comune e altre strutture date in affidamento temporaneo ad associazioni che svolgono attività sociali partendo da un assunto del fatto che seppur nobili e interessanti iniziative non dobbiamo mai vedere questi progetti come o compartimenti stagno o autosufficienti per cui c'è sempre la possibilità di allargare, costruire nuove reti, inglobare nuovi progetti per dare sempre maggiori risposte ai bisogni dei cittadini e far sì che questi luoghi possano rappresentare davvero dei punti di riferimento delle case di quartiere capaci di costruire servizi, di costruire iniziative, cultura per la cittadinanza chiaramente adesso con oggi si è aperta una fase di co-progettazione in cui abbiamo invitato già oggi, erano presenti molte associazioni di quelle già attive e di altre che si possono inserire in questi percorsi per andare a strutturare insieme su questi luoghi già individuati ed eventualmente anche su altri luoghi che possono essere inseriti in questo programma gli interventi e le iniziative da sviluppare che constano in? constano in, diciamo, la misura prevede due piani separati uno di infrastruttura quindi legato al recupero, alla rifunzionalizzazione e all'attrezzamento poi degli spazi e un altro legato invece all'attività e servizio all'animazione possiamo fare un po' un bilancio di questi due anni di vita di Palazzo Guerrieri anche meno, nei quali veramente si è prodotto tantissimo vi aspettavate così, una mole così elevata di iniziative poi andate a buon fine, ricordiamo Superbrindisi ma adesso l'acceleratore di imprese è un po' un motivo di orgoglio per una città come Brindisi tanto è vero che sta anche attirando l'attenzione nazionale questo modello sicuramente possiamo dire che seppur ancora non completato quella di Palazzo Guerrieri è stata una scommessa vinta dall'amministrazione quando siamo arrivati due anni fa abbiamo riaperto le porte di questo luogo era uno spazio abbandonato, pieno solo di macchinari inutilizzati abbandonati a se stessi abbiamo voluto investire in una cosa anche complessa, difficile che probabilmente a Brindisi mai si era riuscito a costruire l'innovazione sociale nonostante anche momenti di difficoltà, soprattutto all'inizio abbiamo poi visto quanto invece quando si costruiscono si danno le opportunità ai giovani cittadini della città poi la città risponde e una risposta sono i 20 progetti che sono stati incubati nel programma di Palazzo Guerrieri una risposta è il fatto che oggi Palazzo Guerrieri sta diventando un punto di riferimento anche capace di attrarre fondi, investimenti e programmi di livello nazionale penso al lab con Invitale che abbiamo inaugurato poco fa al progetto sul FIS, sulla dispersione scolastica che verrà presentato la settimana prossima a quest'altro progetto che può rappresentare un po' la fase 2 anche del percorso di Palazzo Guerrieri che si affaccia anche agli altri luoghi della città per costruire questi propulsori di energie che facciano canalizzare un po' la voglia dei cittadini di occuparsi delle città in un modello anche di gestione delle politiche pubbliche di sviluppo delle politiche pubbliche che non è più legato alle decisioni che si prendono da soli negli uffici ma che si prova a costruire insieme attraverso la collaborazione e la coprogettazione con tutta la cittadinanza e va questo a innervare il capitale umano di questa città che probabilmente è la vera carenza una carenza che nasce quando non si costruiscono le opportunità i processi partecipati dal basso si mette la gente nelle condizioni di poter realizzare il proprio progetto poi le energie si scopre che invece probabilmente esistevano ma sono un po' soffuse adesso si sta provando ad attirare energie e capitale umano da fuori e con un modello alternativo proprio quello di Invitalia presentato da Invitalia insomma piantare dei semi che potranno germogliare magari in direzione anche di uno sviluppo economico più ecosostenibile quella è la linea di fondo di tutto questo ragionamento immaginare questo logo non solo come l'acceleratore di start up, imprese e iniziative private ma vedere tutto questo in un quadro complessivo che è ciò che il pubblico mette poi dentro come visione ovvero il processo di transizione economica, culturale, sociale che la città di Brindisi sta già vivendo e che noi come amministrazione stiamo provando ad accompagnare per costruire a partire da queste iniziative davvero un nuovo modello di sviluppo per la città ci sarà anche una fase 2 per il seaworking a breve verrà presentata esatto, il seaworking che anche quell'esperienza nasce in queste stanze perché dopo un anno dalla riapertura di Palazzo Guerrieri anche solo come presenza di un luogo del genere può permettere di scambiarsi idea, di incontrarsi e di sviluppare progetti che poi come è il caso del seaworking sviluppato da Emma Taveri possono assumere sia una rilevanza mediatica di interesse nazionale che può rappresentare anche per la città un motore di sviluppo interessante grazie 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 grazie